Ciao, sono Lorenzo Riggi, vengo da Siracusa in Sicilia, ho 20 anni e studio Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino. Il progetto che sto portando alla Make2Care si chiama SmartEyes. SmartEyes permette alle persone affette da tetraplegia o paraplegia di controllare casa propria in maniera autonoma. SmartEyes, grazie al momento degli occhi, permette di controllare alcune semplici automazioni in casa, come la luce, la temperatura del termostato o il canale della televisione.